No, sono un... Aspetta, prendo un altro colore. Prendo il rosso. Dai! Ma cosa dai? Scegli? Il colore vuoi? Il rosa. Ma il rosa è delle femminucce? Sì. Vabbè, prendi il rosa. Allora io prendo il blu. Dai, va bene. Dai, parti tu. Inizia. Il via è da lì, eh. Hai fatto uno? Metti uno. L'uno leggiamo. Devi fare il piano per non svegliare il tuo amico cucciolo. Salti un turno. Papà gira due volte. Qual è il tuo amico cucciolo? Non lo so, però la prima faccio due. Questo è il tuo amico cucciolo? Aspetta. E poi faccio uno. E vado sul due. Leggiamo il due cosa dice. L'amico Ayrone ti porta in volo. Avanza di due caselle. Ok, tocca a te. Quattro. Conta quattro. Uno, due. Conta con l'occhetta. Impara, prendi l'occhetta in mano. Uno. No, qui è l'uno. Uno, due, tre. Ti salto. No, no, mi salti. Vieni insieme a me. Non mi salti. Quattro. Vieni qua col papà. Vieni qua, giusto? Uno, papà. Qua, giusto? Giusto? Vieni qua col papà. Uno, due, tre. Tre? No, tre, quattro qui. Vieni qua col papà, che è giusto. Ok. Ti hai fatto quattro come me. Io ho fatto tre. Uno, due, tre. Tocca a te. Oh, non ci cuore l'arrivo. Dai, dai che arrivo prima io stavolta. Dai, dai. No, arrivo prima io. Due. Due. Conta due. Io volevo quattro. Quello che hai in mano conta due. Qui è uno. Quella avanti è uno. Uno. Due. Conta quello che hai in mano. Uno. Due. E la lasci lì. Ok? Ma tu sai, io sono dietro e tu è davanti. Papà ha fatto due. Uno, due. Dai, tocca a te. Due anche tu. Uno, due e quattro. Chiacchieri con l'amica tartaruga e indietreggi di due caselle. Uno, due. Ai, 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 ai. Stavolta papà vince. Sì, dai. Stavolta. Oh, no, uffino. Uno, due, tre. Eh sì, dai, tocca a te. No, io sono lì dietro. Quattro. Ma non buttarmelo giù. Ehi. Conta quattro. Uno, due, tre, quattro. Adesso lo riconti di nuovo con Luca in mano. Qui uno. Uno. Qui uno. Uno qui. Uno, due, tre, quattro. Ok, lascia lì. Dai. Ah, 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 i, 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 i. Uno, due, tre. Il sei cosa dice? Le labrose formiche ti fanno avanzare di una casella. Ok. Eh, tocca a te, Vittorio. Dai. Quattro. Uno, due, tre, quattro. Oh, no, io, no. Volei contare tu? Sì. Allora, aspetta. Qua. Conta quattro. Colloca in mano. Colloca in mano. Uno. No, uno lì. Uno, due, tre, quattro. Ok, dai, tocca a me. Quattro, c'è una le formichine? Sì. Due. Uno, due. Cosa dice la... C'è la uno. Di nuovo. Devi fare piano per non svegliare il tuo amico cucciolo. Salti un turno. Io? Ah, di nuovo. No, io salto. Tu devi girare due volte. Due. Conta due. Uno. No, uno è qui. Uno. Eh. Due. Ok, mettilo lì. Poi gira di nuovo. Ok, gira di nuovo. Eh, gira. Tutti. Tutti. Quattro. Conta quattro. Colloca in mano. Conta quattro. Lascia starla a mio. Prenda due. Uno. Qua. Qua. Uno. Ok, due. Due. Poi tre. E qui il quattro. Quattro. Ok, leggi il sette. Dice... Non leggo qua. C'è la luce. La lepre sta dormendo e devi passare lentamente per non spaventare. Salti un turno. Ok. Adesso mi hai mosso il mio. Dove era il mio? Ok. Era quello blu. Ah, io ero qua che stavo dormendo, giusto? Qui c'è salti un turno e vuol dire che gira due volte il papà. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Perché tu li superi? Eh, ti supero. Sì, adesso arrivo prima. Uno. Due. Tre. Quattro. Guarda come vado forte. Dai, tocca a te. Fufio, io voglio te. Quattro, 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 quattro. Tre. No, io volevo quattro. Eh, pazienza. Conta. Uno. 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 Due. Tre. Ok, fermoli. Eh, stavolta vinco io. Poi mica sempre vincer te. Uno, due. Dai. Fufio, ma tu sei... Gira, tocca a te, Vittorio. Non è che tocca a te. Quattro. Quattro. Conta quattro. Uno. Colloca in mano. Uno. No, uno è qui. Uno, due, tre, quattro. Perfetto. Io sono vicino a te. Vicino, ma io sono davanti. Uno, due, tre. Cosa dice il dieci? Cavallo e asino ti accompagnano avanti di una casella. Beh, sei bravi sti cavalliati. Tocca a te. Gira. Tà tà tà. Dai che vinco. Dai che vinco. E quattro, quattro? Tre. Conta tre. Uno, due, tre. Ok, mettilo là e leggiamo cosa dice il nove. No, signor Corvo ti invita a casa di un'amica rondine per pranzo. Lo accompagni indietro di tre caselle. Di tre caselle. Uno, due, tre. Eh, purtroppo. Eh, stavolta Vittorio non ce la puoi fare. Guarda, papà ha fatto tre. Uno, due, tre. Wow, wow, wow. Tocca a te. Dai. Stavolta sei destinato a perdere. Tà tà. Eh, papà. Beh. Uno. Tocca al papà che vince. Uno. Non ha ancora vinto papà. Dai, tocca a te. Gira. No, se vinci questa qua, proprio, non credo proprio. Uno. Tocca al papà. Via la manina. Tuffi. Tuffi. Tu fai così detto. Uno, due. Ma che non riesco a vincere? Dai, gira. Finché uno non ha vinto bisogna giocare. Bisogna crederci. Quattro. Uno, due, tre, quattro. Adesso il papà deve fare uno. 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 Quattro. Ma no. Uno, due, tre, quattro. Dai, gira. Cosa ridi? No, due. Uno, due. Io ti ho quasi vinto, vinto. Quattro. Uno, due, tre. Ai, ai, a chi non vince più nessuno. L'avvicinazione qui, ma dietro non c'è. Quattro. Fermo, Vittorio, che riesco a vincere. Uno, due, tre, quattro. Tocca a te, dai. No, due. No. Non è mica due qui. Sì, sì. No, avevo fatto due. Ho fatto due. Prova un po' a contare. Qual è la mia? Prendi la tua occa a te. Uno, due. No, hai vinto di nuovo. Tre, tre. Vabbè, 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 dammi cinque. Prova, dammi cinque, dai. Dammi cinque. Aia. Vabbè.